Ancora buongiorno, di nuovo ben trovati e ben svegliati, appuntamento in rigorosa diretta con il telegiornale interregionale di Antena Sud, notizie da Puglia e Basilicata, con la Puglia a quest'oggi protagonista non in senso positivo per quelle che sono le notizie sul fronte politico e giudiziario che hanno creato una sorta di terremoto a più livelli. Facciamo un rapido recap andando a vedere le prime pagine dei giornali. La Gazzetta del Mezzogiorno, manette sulle primarie e altri voti comprati, salta l'assessora Mauro Di Noia, Conte, addio ai gazebo. E poi il nuovo quotidiano di Puglia, voti comprati, nuova bufera all'ultimo caso, scuote la regione, Mauro Di Noia si dimette, 10 misure ai domiciliari, Cataldo e il sindaco di Trigiano, inchiesta con 10 arresti e 73 indagati. E poi il nostro sito con la notizia in primo piano dalla mattinata di ieri. Trigiano arresti sindaco Donatelli e il marito dell'assessore Mauro Di Noia che poi si è dimessa. Intanto la procura di Bari ha disposto nelle scorse ore la perquisizione della casa, dell'abitazione dell'ormai ex assessore Mauro Di Noia. A tante chiaramente le reazioni, Michele Emiliano e la segretaria del PDL Ischlein chiariscono la posizione del partito sulla vicenda, la politica non è un taxi, non tolleriamo voti comprati. Allora partiamo proprio da qui, dalla perquisizione nella casa dell'ormai ex assessore e poi dalle parole di Emiliano e di Ischlein nel nostro primo servizio firmato da Claudia Carbonara. A poche ore dagli arresti e dalle dimissioni scatta la perquisizione. Anita Mauro Di Noia è indagata nell'inchiesta a chi ha portato all'arresto di otto persone, tra cui il marito Sandro Cataldo e il sindaco di Trigiano, si è dimessa dalla carica di assessora regionale ai trasporti e ha lasciato il PD. I sostituti procuratori Savina Toscani, Claudio Pinto e l'aggiunto Alessio Coccioli hanno disposto la perquisizione della casa dell'ex assessora, dei suoi veicoli e di ogni elemento informatico, quindi messaggi sulle app e mail riguardanti i suoi rapporti con Carlo De Giosa, già a processo per compravendita elettorale, e Giuseppe Di Giorgio, ex consigliere comunale, con cui era candidata alle amministrative baresi del 2019. I riflettori si sono accesi anche sui suoi rapporti con Nicola Lella, l'assessore di grumo arrestato che con lei condivideva l'abbinamento elettorale alle elezioni del paese in provincia di Bari. Gli occhi degli inquirenti si concentrano anche sugli scambi di comunicazione avuti da Mauro Di Noia dopo il 28 febbraio 2024. La vicenda di Trigiano, se le accuse saranno confermate, è gravissima, ha tuonato la segretaria del PD, Ellie Schlein. Non tolleriamo voti comprati. Chi pensa che la politica sia un taxi per assecondare ambizioni personali senza farsi alcuno scrupolo, non può trovare alcuno spazio nel partito che stiamo ricostruendo. Qui deve trovare porte chiuse e sigillate. C'è qualcosa che viene prima del consenso e del buonsenso. Intanto Michele Emiliano accetta le dimissioni della Mauro Di Noia e si difende dall'attacco di Tagliaviva che a Roma ha votato contro la mozione di sfiducia del ministro Santanchè. Da sempre affermo che il voto di scambio è un atto illegale e intollerabile. Il rispetto delle leggi è un presupposto imprescindibile per tutti e, ancora di più, ha continuato il governatore, per chi intende far politica. Tante parole, tante reazioni. Poi ci sono le carte, poi c'è la cronaca, poi c'è l'inchiesta. Andiamo all'interno della Gazzetta del Mezzogiorno. Elezioni truccate pure in regione. Salta l'assessore Mauro Di Noia, il marito di lei di preferenza ai domiciliari, con il sindaco Itrigiano. Lei si dimette dalla giunta pugliese e dal PD. Pagavano 50 euro a voto. Siamo a pagina 2 della Gazzetta del Mezzogiorno. In carcere, Nicola Alella, 33 anni, ex assessore a Grumo Appula, con Sud al Centro. Era già stato arrestato per concussione ai danni di un imprenditore dei rifiuti. Domiciliari per Armando De Francesco, 39 anni, ex consigliere della prima circoscrizione per Sud al Centro ed ex collaboratore stretto di Cataldo. Domiciliari anche per Antonio Donatelli, 55 anni, sindaco di Itrigiano, eletto con il supporto di Con e Sud al Centro. Ai domiciliari anche Vito Perrelli, 54 anni, ex vice sindaco del Comune di Itrigiano, fino a dicembre 2022 ed ex assessore alla provincia di Bari, con il centro-destra. Dicevamo tante parole e tante reazioni sul fronte politico con le primarie del Partito Democratico che restano sospese. Tra poco vedremo perché. Ma l'inchiesta chiaramente va a sconvolgere non solo gli assetti politici regionali e nazionali, ma chiaramente provoca anche le reazioni da parte dei cittadini. Per noi a Itrigiano, in strada, c'era l'aria del vino che ha ascoltato i cittadini di Itrigiano. Itrigiano si risveglia in credula. Cittadini basiti, apprendendo la notizia degli arresti domiciliari per il sindaco, Donatelli per corruzione elettorale. Lei sapeva degli arresti domiciliari del sindaco per corruzione elettorale? Lo ha preso da lei in questo istante, però prima di lei si parlava di questo, proprio di ciò che è successo al nostro sindaco e quindi siamo rimasti tutti un po' stupiti. Mi auguro per loro che non ci entrino a nulla e ritornino ad essere le persone che sono, che comunque per Trigiano fanno tanto, hanno fatto tanto. Per me, penso per parecchi, per la cittadinanza, ero una bravissima persona. Poi confidiamo nella magistratura che farà il suo corso. Sapeva degli arresti domiciliari del sindaco di Trigiano? Lo sapevano che ci dovevano arrivare. Se lo aspettava? Io me lo aspettavo e come me lo aspettavo? Perché? Perché la procura abbia fatto le loro indagini e hanno ritenuto che c'è qualcosa di grave, altrimenti il magistrato non lo portava per gli arresti domiciliari. È una cosa ovvia. Ma a lei piaceva come amministratore, come sindaco? Le piaceva? Mi piaceva come uomo, ma non come sindaco. Mi piaceva come uomo, come persona, cordiale, amichevole. Ma come amministratore di un paese che siamo oltre 30.000 abitanti, il paese è dissestato in tutto e per tutto. Queste sono le voci dei cittadini di Trigiano. Torniamo sulle pagine dei giornali, sempre Gazzetta del Mezzogiorno. L'accusa dei PM, Anita, ha pagato voti per le comunali di Vari e le regionali. I carabinieri sequestrano il cellulare della Mauro di Noia. Il pressing del PD per farla dimettere. Emiliano la difende. Abbiamo sentito comunque quello che diceva Michele Emiliano. Facciamo un salto anche sul nuovo quotidiano di Puglia con la corruzione presunta per carità alle elezioni. Dieci arresti. C'è anche il marito dell'assessora. Voti in vendita. Nuova bofera giudiziare nel Barese per un presunto sistema elettorale che farebbe capo alla coppia Cataldo-Mauro di Noia. Preferenze comprate per 50 euro sarebbero state condizionate le regionali e le comunali di Grumo Appula. Un assessore in carcere di Trigiano con il sindaco. Lo abbiamo visto che è finito ai domiciliari. Sotto la lente, le regionali e le amministrative. Sotto i fari dell'inchiesta di ieri, 73 gli indagati. Sono finite le scorse elezioni comunali del 2019. Le regionali e ancora le amministrative del settembre 2020. Si parla di un sistema variegato di crescita del consenso. Questo secondo gli inquirenti di Bari. Un sistema basato sul pagamento di un corrispettivo in denaro a preferenza con cifre che variano poi a seconda delle competizioni. All'interno di un cassonetto i nominativi di alcuni elettori. All'indomani delle ultime elezioni comunali trigianesi furono rinvenuti all'interno di un cassonetto dei rifiuti i nominativi appunto di alcuni elettori. E poi l'organizzazione della raccolta delle preferenze che non si basava, dice l'accusa, solo su dazioni monetarie ma anche attraverso un passaggio per sigle elettorali. Quindi un sistema abbastanza complesso. E poi appunto Moro di Noia indagata che lascia l'incarico in giunta. Emiliano dice io garantista. Nuova bufera giudiziaria sul lente dopo le indagini che avevano coinvolto i dirigenti l'erario Borzillo e Sanicandro nel mirino i quasi 20 mila voti alle ultime elezioni raccolti dall'assessora che lascia anche la direzione del Partito Democratico. Cosa ha detto il Presidente Michele Milano? Ha detto che è giusto che chi sbaglia paghi ma spetta ai giudici stabilirlo. E di preferenza il Palazzo Ladisu, una scalata a due lunga vent'anni. Quindi si parla della coppia che è appunto finita in questa inchiesta. Andiamo a vedere le altre pagine del nuovo quotidiano di Puglia perché poi si passa appunto sotto l'aspetto a questo punto prettamente politico perché ora è psicodramma nel centro-sinistra con l'ex Premier, Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte che ieri a Bari ha messo una pietra bombale sulle urne di coalizione. Questo a poche ore dall'inchiesta e dagli arresti ma anche a poche ore in prospettiva dalle stesse primarie. Non ci sono le condizioni per farle. Fuoco di fila dai DEM con appunto questa difesa del Partito Democratico potremmo dire così una sorta di autodifesa. E allora cerchiamo di capire che cosa è accaduto sul fronte politico partendo proprio dalle parole di Giuseppe Conte che di fatto ha sospeso le primarie del centro-sinistra. Non ci sono le condizioni ideali per le primarie ma il sostegno alla forgia viene ribadito così come la volontà di dar vita ad una coalizione unitaria in sintesi il pensiero del leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte venuto a Bari per appoggiare il candidato sindaco, Michele Laforgia. Per il Movimento 5 Stelle non ci sono le condizioni per svolgere seriamente le primarie perché riteniamo che il candidato e le ragioni che ci hanno spinto ad appoggiare il candidato Laforgia permangano, immutate, anzi si rafforzano. Ci confronteremo anche con gli altri della coalizione, le altre forze politiche e civiche della coalizione per cercare di affrontare la campagna elettorale per Bari nel segno di un nuovo inizio, di un rafforzamento dei presidi di legalità. Non ci sono le condizioni, le stesse condizioni che c'erano prima per fare queste primarie, noi chiederemo di sospenderle almeno di sospenderle, lo chiederemo anche, io l'ho chiesto e lo chiederò anche pubblicamente al candidato, all'altro candidato cioè a Vito Leccese, spero che questa decisione sia condivisa. Sulla stessa lunghezza d'onda anche lo stesso Avvocato Barese sul palco di Piazza Libertà, Nichi Vendola in aggiunta per non far morire la primavera barese, ha detto, serve trasparenza. La cosa peggiore non è perdere le elezioni, ma è perdere l'anima e noi abbiamo innanzitutto il dovere di dare quest'anima al centro-sinistra l'anima di una speranza che è cambiamento, emancipazione, libertà dalla sopraffazione, dalla forza di intimidazione dei clani. Importante non perdere l'anima, così l'ex governatore di Puglia Nichi Vendola, torniamo all'interno delle pagine dei quotidiani con teniente primarie, tutti con la forza, scrive la Gazzetta del Mezzogiorno ma il PD non ci sta e va avanti con Leccese. Il Nazareno scelta 5 stelle incomprensibile, in dubbio oggi la presenza della Schlein intanto questa foto che ritrae appunto gli alleati in comune e in regione al centro c'è Anita Moro di Noia con il sindaco di Bari Antonio De Caro e il governatore di Puglia Michele Emiliano quando su dal centro ha annunciato il suo sostegno alla ricandidatura del sindaco di Bari. Andiamo a vedere sul nuovo quotidiano di Puglia con queste primarie che non si fanno dopo lo stop di Conte e la forgia e di questa nuova guerra tra Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. quello abbiamo sentito, l'inchiesta del no di Conte, Movimento 5 Stelle fuori dalle primarie che erano in programma proprio per domenica, domenica 7 aprile il leader del Movimento 5 Stelle ha spiegato subito dopo l'inchiesta che non ci sono più le condizioni per farle. La forgia lancia la sfida, niente urne interne, le primarie a Bari non si possono fare non ci sono le condizioni ma in vista del voto ha detto una cosa è certa oggi sono più candidato di ieri, spero che si possa trovare l'unità del centro-sinistra. Centro-sinistra che si spacca a questo punto perché le parole dell'altro competitor per le primarie dice io vado avanti, prendo atto con rammarico della decisione ma io resto in campo e mi rendo disponibile a trovare una soluzione unitaria che però non sia figlia delle imposizioni. Allora andiamo a vedere che cosa è accaduto proprio nella serata di ieri nella sede del Partito Democratico, per noi c'era Antonio Bucci. Se il Movimento 5 Stelle ha deciso di non fare le primarie, le primarie saranno il primo turno 8 e 9 giugno decideranno i baresi, i partiti presenteranno le liste noi da domani lavoriamo alle nostre liste, Vito De Cese è il nostro candidato in bocca al lupo a tutti. L'ultimo giorno delle primarie finisce per essere il primo della campagna elettorale e le piazze del gran finale diventano quelle del punto di non ritorno il PD non ci sta al testa coda della convenzione che prende tempo, riflette, si riunisce e poi formalizza che non ci sono più le condizioni per votare domenica e affidare agli elettori la scelta del candidato al sindaco di Bari per il centrosinistra. Non possiamo abbandonare il popolo del centrosinistra, sembrerebbe una fuga quella di non fare le primarie una fuga che io non sono assolutamente dell'idea che si debba mettere in atto quindi con la testa alta, con la consapevolezza di avere un popolo che ci vuole bene che apprezza quello che è stato fatto in questi anni che non può essere cancellato dalle inchieste giudiziarie. Ci sono Deborah Serracchiani, ex capogruppo alla Camera e c'è Vito Leccese che arriva all'incontro da competitor di Michele Laforgia alla consultazione e ne esce forse da candidato al sindaco, di certo c'è che indietro non si torna. Io sono sicuro che ci saranno tutti e per tutti crederemo a cui è stato negato il diritto di partecipare alle primarie e lo faranno a tornare l'8 e 9 giugno. Buona compagnia! E allora saranno sicuramente ore e giornate piuttosto convulse anche sul fronte politico dopo questa inchiesta, dopo l'ultima inchiesta che riguarda Bari chiaramente anche la stampa nazionale va a trattare, va a commentare, va ad analizzare questa inchiesta andiamo all'interno del quotidiano La Repubblica, voto di scambio e resti in Puglia e Conte fa saltare le primarie a Bari, l'accusa 50 euro a preferenza indagata l'assessora regionale del PD Mauro Linoia, l'ex premier, non ci sono le condizioni per votare. Poi l'abbiamo visto il PD su Leccese, i 5 Stelle con la forgia, ex alleati divisi alle urne di giugno. Torniamo sul nuovo quotidiano di Puglia dove c'è anche il commento di Antonio De Caro del sindaco di Bari questa nuova inchiesta ha detto De Caro non mi sorprende affatto così De Caro che ha risposto ai cronisti che l'hanno interrogato in merito al terremoto giudiziario che ha sconvolto fin dalle prime ore della giornata sia Bari che la Puglia e che ha colpito anche il suo partito. Cosa ha detto De Caro? Non sono nello specifico cosa sia accaduto aspetto di capire l'evoluzione delle indagini e degli arresti di questa mattina. E poi ancora, lo ricorda Nuovo Quotidiano, 5 giorni fa De Caro aveva dichiarato credo nel valore sacro del diritto di voto come pilastro della vita democratica di una comunità. La libertà e la democrazia non sono valori negoziabili. E allora chiudiamo questa ampia pagina dedicata agli arresti e appunto all'inchiesta di Bari che ha portato poi non solo alle dimissioni dell'assessora regionale Mauro Di Noia ma anche alla rottura in vista delle amministrative e delle primarie tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Ma ieri era un'altra giornata importante per Bari anche sotto l'aspetto della sicurezza. Questo per evitare escalation ma anche per invocare maggiori controlli. Questo è emerso nel vertice del Comitato dell'Ordine della Sicurezza. Riunitosi ieri si cerca dopo l'ultimo omicidio di evitare un escalation di sangue e di violenza. Fai Detra Clan, spaccio di droga, maggiore sicurezza sul territorio, regole ben precise. Il territorio di Bari chiede maggiore controllo e supporto in termini di presenze e di forze dell'Ordine. Buon senso. In prefettura ha avuto luogo il vertice del Comitato Provinciale dell'Ordine della Sicurezza per fare il punto della situazione sotto la lente di ingrandimento gli ultimi fatti di cronaca con una maggiore attenzione del fenomeno criminale. Abbiamo fatto un punto della situazione. Chiaramente le istituzioni sono tutte schierate, compatte, per fare in modo di garantire alla città metropolitana di Bari il massimo di sicurezza. Chiediamo chiaramente sempre la collaborazione di tutti. Il controllo sul territorio è già molto forte, ma ci siamo posti l'obiettivo di tenere questo sistema in maniera forte ancora fino a quando sarà necessario e di rafforzarlo ulteriormente. Nessuno ha intenzione di abbassare la guardia dunque e anche De Caro sul tema rilancia così. Sono stato tranquillizzato rispetto al fatto che alla magistratura le forze dell'Ordine sono fortemente impegnate. C'è anche un rafforzamento del controllo sul territorio, come vi ha detto anche il prefetto al termine del comitato. Sono preoccupato per le modalità dell'agguato, sono preoccupato per lo spessore criminale della persona che è stata ammazzata e sono preoccupato che possano esserci delle reazioni come è accaduto spesso in questa città. Sono stato rassicurato rispetto all'impegno che ovviamente conoscevo di forze dell'Ordine e della magistratura. Un sindaco di Bari, Antonio De Caro, quindi che è preoccupato per quanto riguarda il tema della sicurezza. Peraltro il vertice di ieri va a occupare poi anche il capocronaca del nuovo quotidiano di Bari, torniamo all'interno del giornale, la sicurezza faida tra clan SOS del comitato ora massimo livello di controlli, il vertice in prefettura con Russo e comandanti delle forze di polizia per fermare la recrudescenza criminale dopo le tre sparatorie e l'omicidio. Andiamo a vedere i punti salienti, potremmo dire così, di questa situazione. Si parte dalle sparatorie a Carbonara nella notte di giovedì santo, tra giovedì e venerdì prima di Pasqua. Nel quartiere Carbonara due giovani si sono presentati al pronto soccorso dell'ospedale di Venere in maniera autonoma presentando delle ferite d'arma da fuoco e poi nella sera di sabato un altro agguato non riuscito, altri colpi di pistola stannicandolo contro un 22enne. Il delitto di Pasquetta compiuto a torre a mare, Lello Capriati, 41 anni pluri pregiudicato, aveva trascorso in cella 17 anni fino ad agosto 2022 per l'omicidio di Michele Fazio. E' stato ucciso, capriati a colpi di pistola nella serata di Pasquetta. Un'esecuzione in piena regola a bordo di un'auto che era guidata da una donna poi identificata. E allora c'è il rischio di una guerra tra gruppi criminali perché la preoccupazione principale è che questi episodi possano essere un preludio di una nuova guerra di mafia, possa essere un preludio ad una Pax mafiosa che si è bruscamente interrotta. Lanciare l'allarme su una possibile recrudescenza, lo avete sentito, è stato proprio il sindaco Antonio De Caro. Per questo ieri mattina il Comitato per l'ordine della sicurezza presieduto dal prefetto russo insieme ai vertici provinciali delle forze di polizia ha disposto il livello massimo di allerta con controlli e pattugliamenti a tappeto su tutto il territorio, impegno a 360 gradi sulla prevenzione e sulla repressione, questo ha detto il prefetto. E torniamo a parlare dell'agguato a capriati, funerali pubblici vietati, l'autopsia parla di una vera esecuzione. Solo esecue private per l'ello, nipote del boss ucciso nella serata di Pasquetta a Torre a Mare. Il rito blindato oggi al cimitero monumentale si indaga sul ruolo della donna alla guida dell'auto prima degli spari. Eccolo qui, Raffaele Capriati, detto l'ello, avrebbe compiuto 41 anni a maggio, invece qui vediamo appunto gli inquirenti, vediamo le forze dell'ordine, la scientifica per i rilievi del caso sul luogo dell'agguato, sul luogo dell'omicidio. E ancora De Caro è l'allarme su 14 gruppi mafiosi, mai detto che Bari è una città sicura. Andiamo a riprendere alcuni virgolettati, la città, detto De Caro, rispetto a 20 anni fa è cambiata, prima non si poteva nemmeno entrare nel centro storico. Io però non voglio mettere, ha detto De Caro, la polvere sotto il tappeto, la malavita va affrontata e infine bisogna tutelare i giovani, sempre più affascinati dal guadagno facile, sono preda della criminalità. Chiudiamo la pagina dedicata alla sicurezza a Bari. Cambiamo regione, cambiamo provincia con il prefetto di Potenza Michele Campanaro che ha convocato la riunione tecnica di coordinamento delle forze di polizia a seguito dell'allarme di furti e rapine registrate proprio in questo inizio del 2024, in questo inizio nell'anno, specie nel territorio del comune di Lavello. Ci spiega tutto Francesco Cutro. 29 furti tra tentati e consumati e due rapine, questo il preoccupante bilancio che inizio anno spaventa la comunità di Lavello. Proprio per arginare il seppur lieve incremento rispetto agli anni passati, il prefetto di Potenza, la presenza delle forze di polizia e del sindaco Carretta, ha presieduto la riunione tecnica di coordinamento. C'è un aumento di numeri legati ai delitti predatori, ai furti e alle rapine in alcune zone del territorio. Oggi siamo con il sindaco di Lavello perché quella è una zona di confine con una delle province a più alto indice, a più alto tasso di criminalità ordinaria e organizzata. cioè la provincia di Foggia e la provincia con termine della BAT. Oggi facciamo un nuovo punto di situazione per mettere in campo ulteriori misure rafforzate di controllo e di prevenzione. È una terra di frontiera, quindi voglio dire, essendo una terra prossima a delle zone critiche, ovviamente sono fenomeni che purtroppo attanagliano il nostro territorio. L'incontro di questa mattina serve proprio a consolidare la risposta in termini di sicurezza da parte delle istituzioni e quindi andiamo, credo, nella direzione giusta. Facciamo ora una breve pausa, c'è anche il meteo, a tra poco torniamo in diretta. Di nuovo ben trovati in rigorosa diretta, apriamo questa fascia con la cronaca nera schianto mortale, andiamo all'interno delle pagine del nuovo quotidiano di Taranto. Schianto mortale avvenuto due notti fa, la festa finisce in tragedia, 17enne perde la vita, si tratta di Carmelania in Pedogo. Studentessa di Motto la tornava da un compleanno con quattro amiche. L'auto sulla quale viaggiavano è finita fuoristrada, sbattendo contro un muro di cinta sulla provinciale. La ragazza è morta durante il trasporto in ospedale, oggi proclamato in paese il lutto cittadino. Questa foto della vittima, Carmelania in Pedogo, non aveva ancora 18 anni e con la bellissima in una foto la sua vita si è spezzata contro il muro. Allora andiamo a ricapitolare quanto accaduto due notti fa nel servizio firmato dal direttore Gianni Sebastro. Una giovane vita spezzata e due persone ferite in maniera grave, il tragico bilancio dell'ennesimo incidente stradale avvenuto sulle strade pugliesi. La Fiat 500 sulla quale viaggiavano cinque ragazze, tutte di Mottola, è finita contro un muro, l'impatto è stato violentissimo. La vettura ha concluso la sua corsa su un fianco, non c'è stato nulla da fare per una giovanissima di soli 17 anni. L'incidente stradale mortale è avvenuto in piena notte intorno alle 2 di giovedì 4 aprile nel territorio di Mottola, nel Tarantino. Oltre alla vittima sono rimaste ferite gravemente altre due ragazze, entrambe di 18 anni, sono state soccorse dai sanitari del 118 ricoverate nei reparti di reanimazione e chirurgia toracica dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Le altre passeggere della Fiat 500 di 19 anni hanno ricevuto le cure dei medici del pronto soccorso, hanno riportato lievi ferite, da chiarire l'esatta dinamica del sinistro. Stando ad una prima ricostruzione, la conducente avrebbe perso il controllo del mezzo lungo la strada provinciale 25, nei presti della zona industriale di Mottola. Per le cause che hanno provocato l'incidente sono lavori carabinieri della compagnia di Massafra, diretti dal capitano Quintino Russo, sul posto anche i vigili del fuoco di Taranto. Torniamo per approfondire all'interno del nuovo quotidiano di Puglia con la disposizione, con la proclamazione del lutto cittadino per la giornata di oggi. Carmelania Impedovo lascia i genitori, Vito e Giovanni, una sorella di qualche anno più grande. Nel primo pomeriggio di ieri il feretolo della sfortunata studentessa è giunto nella casa del commiato di via Santo Stefano a Mottola. Tanti i messaggi di cordoglio affidati ai social per stringersi attorno alla famiglia Impedovo. Sentimento di dolore manifestato su più fronti già da ieri mattina il locale circolo del Partito Democratico di fronte alla tragedia ha annullato l'evento programmato su pianificazione e sviluppo sostenibile del territorio. Non possiamo restare indifferenti per questo. Ci uniamo al dolore delle famiglie, delle giovani ragazze che sono venute a mancare nel tragico incidente stradale. Per rispetto sospendiamo le nostre attività. Messaggio di cordoglio anche da parte della consulta Giovanni Motto. La notizia della tragedia che ha colpito una nostra concittadina così giovane in un tragico incidente stradale nella notte scorsa ci colpisce profondamente lasciandoci senza parole in una terribile tristezza. Partecipiamo con viva commozione e umano cordoglio alla incommensurabile perdita porgendo le più sentite condoglianze alla famiglia della ragazza a cui ci stringiamo con affetto e solidarietà. Una preghiera per le sorti delle altre giovani ragazze anch'esse coinvolte nell'impatto e attualmente ricoverate in ospedale. Oggi pomeriggio invece è l'ultimo saluto a Carmelania con il rito funebre che sarà celebrato alle 16 a Mottola nella chiesa di San Pietro Apostolo. Parlano anche le amiche, ricorderemo tutto di te. La sua scuola oggi sospende le lezioni. Dolcissima Carmelania, mai avremmo pensato di vivere questo momento e ancora non riusciamo a realizzare che tu sia volata via. Eppure è così. Questo è il triste messaggio affidato proprio a quotidiano da due amiche di scuola dalla quarta C da ieri rimasta orfana di Carmeliana. Con lei avevamo iniziato un percorso di studi. Scrivono le amiche che le avrebbero portata alla maturità. Conoscerti e avere il piacere di essere i tuoi amici è stata davvero una fortuna. Porteremo sempre nel cuore i momenti indimenticabili e le risate a crepapelle vissute con te. Il tuo sorriso era capace di arrivare dritto all'anima delle persone. Tante erano le cose da fare ancora insieme ma qualcuno ha voluto portarti via prima del tempo. Le due insegnanti, Leo Grande e Notari Stefano, l'alunna modello che tutti i docenti vorrebbero avere. E purtroppo dobbiamo continuare a parlare di morti di sangue sulle strade con un 18enne che ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto anche questo due notti fa nei pressi di Vieste lungo la strada provinciale 52. Ci spiega tutto Antonella Davola. Era da poco diventato maggiorenne Giovanni Paolo Perone. Il ragazzo è deceduto in un drammatico incidente avvenuto intorno alle due di notte del 4 aprile alle porte di Vieste nel Foggiano lungo la strada provinciale 52. A quanto si apprende il giovane era alla guida della Ford Fiesta che per ragioni ancora da accertare è uscita fuori strada terminando la corsa contro un muretto di recinzione di un terreno. Per lui a nulla sono valsi i soccorsi degli operatori sanitari del 118. A bordo dell'auto c'era anche una ragazza di 16 anni che nell'impatto è rimasta gravemente ferita e che è stata elitrasportata presso l'ospedale Casa Sollevo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo. Sul posto, oltre ai soccoritori, sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Vico del Gargano e i carabinieri della locale compagnia ai quali sono affidate le indagini del caso. Un bruttissimo risveglio questa mattina per la comunità di Vieste, ha affermato il sindaco Giuseppe Nobiletti, che ha aggiunto la notizia della tragedia che ha colpito un nostro concittadino così giovane, ci colpisce profondamente e ci lascia senza parole. Amore di papà, sei andato via senza salutarmi e il messaggio del padre Alessandro. Voltiamo pagina, torniamo in basi ricata con il questore di Matera Emma Evanes che ha accolto il vicequestore della Polizia di Stato Elena Raggio assegnata alla divisione Polizia Anticrimine. Il questore di Matera Emma Evanes ha presentato il nuovo vicequestore della Polizia di Stato che assumerà la regenza della divisione Polizia Anticrimine, ufficio di importanza strategica per la questura di Matera. Si tratta della dottoressa Elena Raggio che sostituisce il primo dirigente, il dottor Maurizio Scialpi, trasferito dal mese di febbraio scorso alla questura di Taranto. Il questore Evanes durante la presentazione ha tenuto a sottolineare il prezioso lavoro della divisione Anticrimine nel contrasto alla criminalità, con particolare attenzione alle misure di prevenzione, frutto dell'attenta analisi delle attività condotte sul territorio dal personale della Polizia che oggi rivestono un'importanza fondamentale per la prevenzione dei fenomeni insidiosi come ad esempio la violenza di genere. Il vicequestore Elena Raggio nella sua carriera ha maturato una lunga esperienza nel campo della Polizia Giudiziaria che saprà mettere a disposizione della comunità materana, ha affermato Ivanes. A lei vanno i migliori auguri di buon lavoro da parte di tutta la questura di Matera. Buon lavoro, buon lavoro al nuovo vicequestore. Noi torniamo sulla cronaca e andiamo all'interno delle pagine del nuovo quotidiano di Puglia. Una notizia strillata in prima pagina. Supercar in fumo, danni per un milione e mezzo. Ferrari, Mercedes, Porsche, c'è la stima delle conseguenze per quanto riguarda l'incendio del 19 marzo in un capannone adibito ad auto rimessa alle vetture di proprietà di un imprenditore di Manduria. Le indagini, forse le innesco da una batteria di un'auto in carica. Indagini in corso per capire le esatte cause dell'incendio. Notizia, questa con la stima dei danni, anche con tutti i modelli delle supercar andate letteralmente in fumo che era stata data proprio ieri mattina in anteprima da Antena Sud. Vediamo il servizio. Nonostante la presenza di un foro nel muro e di un accendino rinvenuto a terra, l'ipotesi più plausibile resta quella di un malfunzionamento dell'impianto che per qualche motivo avrebbe scaricato un eccesso di elettricità nella batteria di una Ferrari ibrida parcheggiata all'interno del capannone andato in fiamme. Eppure non si esclude alcune ipotesi sull'incendio che lo scorso 19 marzo mandò in fumo letteralmente 5 supercar dal valore complessivo di un milione e mezzo di euro circa. Nel dettaglio ad andare distrutte sono state due Ferrari, una 296 GTB ibrida e una SF90 Spyder, una Porsche Carrera 911 GTS, una Mercedes SL 63 AMG e una rarissima Mercedes SL del 1957, presumibilmente il pezzo più pregiato della collezione di auto di un imprenditore di Manduria residente nel nord Italia. Le vetture parcheggiate a titolo gratuito nel capannone di un'altra persona residente a Doria non sono più recuperabili. Nonostante gli sforzi dei vigili del fuoco, le fiamme hanno divorato la struttura e tutto quello che c'era all'interno, le indagini che al momento sembrerebbero escludere il dolo, sono affidate ai carabinieri della compagnia di Francavilla Fontana e della stazione di Oria sulla base dei rilievi eseguiti dal personale del 115 al lavoro quella notte per tutta la notte. Ancora cronaca, restiamo nel Brindisino, anzi andiamo a Brindisi città e anche all'interno del nuovo quotidiano, inchiesta dopo l'overdose, scattano tre arresti per droga, mi porti un chilo di rape, le indagini avviate dai carabinieri nel 2023 dopo il ricovero di un ragazzo in codice rosso fondamentali, le intercettazioni telefoniche e ambientali, gli indagati utilizzavano un linguaggio criptico per sviare gli inquirenti e allora andiamo a ricostruire con il servizio firmato da Gianmarco di Napoli i dettagli di questa operazione. Spaccio di droga ma anche tentata estorsione, queste le accuse con cui i carabinieri di Brindisi hanno arrestato tre persone in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP su richiesta del PM Pierpaolo Montinaro. In carcere è finito un Brindisino di 46 anni, ai domiciliari una donna di 32 e un 47enne, anche loro Brindisini. L'inchiesta è partita da un caso di overdose avvenuto in città, per fortuna non conclusosi in maniera tragica. Indagando sui fornitori di droga della vittima, i militari hanno ricostruito diverse cessioni di sostanza stupefacente, marijuana e hashish, ma anche cocaina e crack. Secondo quanto appurato, i tre rifornivano con continuità la piazza Brindisina. L'uomo finito in carcere e la donna sono accusati anche di tentata estorsione nei confronti di un acquirente che avrebbero minacciato di morte promettendogli di bruciargli la casa se non avesse ripiennato il suo debito di 150 euro con l'oro. L'estorsione non si è consumata perché l'acquirente ha denunciato l'accaduto. I tre arrestati affronteranno ora l'interrogatorio di garanzia, prima il 46enne che si trova in carcere e poi i suoi due presunti complici ai domiciliari. Torniamo a parlare di politica. Ci dovremo collegare tra pochissimo con il collega Antonio Obucci in diretta per analizzare e approfondire quanto è accaduto nelle scorse ore a Bari tanto sul fronte giudiziario quanto e soprattutto sul fronte politico. Io lo vedo già pronto in collegamento il nostro Antonio Bucci che ha seguito nella giornata di ieri insieme ai colleghi della redazione di Bari questa inchiesta ma anche per le reazioni politiche che non sono mancate con diversi colpi di scena. Buongiorno Antonio. Buongiorno Michele. La reazione è che salta il banco delle primarie. Non è un colpo di scena annunciato. Gli addetti ai lavori qualche segnale l'avevano captato. Fino alle 18 di ieri il tavolo dei saggi si è comunque riunito. Si è riunito per capire chi avrebbe guidato i seggi, si è chiarito chi avrebbe gestito la macchina per le contestazioni e invece poi arriva Giuseppe Conte a fare il punto stampa e dice non ci sono più le posizioni. Salta il banco, l'ultimo giorno della campagna elettorale delle primarie diventa il primo della campagna elettorale giunto. Quanto, in questi casi è la storia del dentifricio che torna nel tubetto, quanto siamo in intenzione di tornare indietro. Da quel momento in poi, io l'ho seguito dall'altra metà campo, in vita dei DEM, che si erano riuniti poi con Deborah Seracchiani, l'ex capitolo della Camera, per un'iniziativa arcatamente elettorale e poi si sono trovati davanti alla sbattuta. Fino alla tattasera la domanda era, ma questa è la posizione di Conte della Convenzione. Poi è diventata la posizione di Michele Laporgia e di tutti gli altri che a sera dicono, noi siamo ancora in campo, chiediamo all'altra a campo, quella dei DEM, la dito leccese, di convergere, che è un po' la posizione che stanno mantenendo stamattina. Per cui la linea è, il centrosinistra non si rompe, vi chiediamo di convergere per il bene di tutti, però se te la devo dire, questa è un po' l'anticamera della rottura. Credo che siamo in esorazione a quel punto, è molto difficile che adesso si trovi dietro e si dica che abbiamo scherzato, ci rimettiamo insieme. Anche perché questa cosa poggia su un fatto di garanzie, nel senso che, l'aveva detto Vito Leccese in un confronto due giorni prima, non può essere un fatto di patenti, dicevano loro, non può essere che da una parte, c'è un paladino della legalità, riconosciuto e smaccato, dall'altra c'è una parte che sì, però un po' è vicina, per cui come fai a dire, abbiamo scherzato quando l'accusa è, non ci sono le garanzie da un punto di vista di piena legalità, da un punto di vista di trasparenza del vuoto, e questo ci riporta ai fatti di ieri, che a differenza dell'inchiesta precedente, la codice interna dei 135 arresti, adesso ha un addentellato in più, che è il fatto di toccare la giunta, adesso, anche in questo caso. Ecco Antonio, aiutami a capire, tu che sei bravo, io ho avvolto difficoltà a comprendere alcune posizioni politiche, salta il banco delle primarie in vista delle amministrative dopo un'inchiesta che coinvolge un assessore regionale, salta il banco per le amministrative, ma in regione non accade niente, cioè qual è la posizione del Movimento 5 Stelle per quanto riguarda il governo regionale? Al momento tacciono, al momento tacciono però il primo a tirare fuori questa questione è stato Francesco Pocio, ieri sera, che è planato a pari con tutta l'urgenza del caso dicendo, occhio perché se, tra virgolette, siamo brutti e cattivi sempre, l'Oreo adesso mi aspetto anche una presa di posizione in regione. Adesso Michele Emiliano ha detto, io per garanzia ho accettato le dimissioni di Anita Mauro di noia, per garanzia non ho restituito le deleghe al presponente, per garanzia non apro un rimpasto, però è anche chiaro che nel momento in cui questa questione tocca all'esecutivo delle due l'una e l'ha detto Francesco Boccia o adesso si è conseguenziale, per cui grazie di Bari lascia la delega alla cultura, per cui si esce dall'ufficio di presidenza, per cui si esce dagli organismi, oppure non vale. In realtà probabilmente, siccome la macchina è ancora quella della trattativa, è ancora quella del sì però non facciamo che finisce a pesce in faccia, sì però proviamo ancora a tenere tutto insieme, perché il primo turno di giugno possa essere una sorta di primaria ufficializzata e poi ci si vede al secondo turno del ballottaggio, che adesso comincia ad avere tutta un'altra forma. Io mi aspetto anche che nelle prossime 48 ore il centrodestra prenda la decisione, perché fin qui si era al centrodestra unito, pare il 75% dei consenti dai sondaggi, adesso è un'altra partita. Adesso è davvero un'altra partita, immagino che all'improvviso quella carica di candidato a sindaco del centrodestra di Bari possa assumere tutto un altro sapore. C'è qualche novità che riguarda le ultime ore sul fronte centrodestra? Guarda, si era tornati al testa a testa tra Francesco Polosisto, vice ministro della giustizia, e Filippo Melchiorre, senatore di Fratelli d'Italia, perché il magistrato Stefano D'Ambroso aveva chiesto delle garanzie in più su eventualmente le postelezioni, sulle garanzie del voto, non l'aveva ottenuto, almeno così raccontano i dietro le quinte, e aveva ritirato la propria disponibilità. Così come c'era la figura del Consiglio regionale Fabio Romito, che però era stata messa sul tavolo, ritirata in qualche misura nell'attesa che probabilmente si individuasse un profilo da uomo d'ordine, e poi rimessa sul tavolo, ma con delle incertezze in più. Adesso due big come Francesco Polosisto e Filippo Melchiorre potrebbero diventare l'anello di congiunzione con quello che è successo ieri, però questa cosa dovrebbe accadere in tempi brevissimi, nel senso che anche questa spaccatura va capitalizzata dal loro punto di vista, serve una figura che capitalizzi. Non credo che si potrà aspettare ancora tanto, nel senso che l'8 di maggio bisogna fare le liste. Adesso i candidati ti chiedono che nome metto sul Santino, che non è soltanto un fatto di tipografia per andare a stampare, è un fatto di io ci sto se la partita ha una forma, non ci sto più se... Però io mi aspetto che da Roma... Ieri, me l'avessi chiesto ieri, ti avrei detto, Francesco Polosisto è l'ipotesi più accreditata, perché tanto tra un mese un 1-1 da Roma dovrà andare a fare l'Eurocommissario, e a quel punto si può aprire uno spazio di manovra dato dal rimpasto di governo. Adesso ieri sera, però, i rumors da Roma lasciano il tempo che trovano e valgono fino al contrario, l'ipotesi che filtra dalla capitale è una promozione del sottosegretario Alfredo Mantovano al Ministero della Giustizia al posto di Carlo Nordio, lì dove si dovesse aprire un rimpasto dopo le europee. E questa cosa non lascerebbe spazio a una promozione ulteriore di Francesco Polosisto, che fino a prova contraria non avrebbe bisogno di dimettersi prima delle elezioni, potrebbe correre e poi decidere a elezioni fatte che cosa fare. Quindi siamo vincolati anche al rimpasto, siamo vincolati alle europee, che saranno l'altra grossa partita che dipende inesonabilmente anche dal voto di Bari, dal quale poi dipendo le regionali. A tal proposito, c'è un altro aspetto che volevo analizzare con te. C'è una sorta di fuorisincrono in queste ore, nelle parole, negli atteggiamenti da parte di Michele Emiliano e Antonio De Caro, mai evidentemente così distanti. Emiliano si dice garantista, nonostante poi le dimissioni della Mauro di Noia, che non sappiamo esattamente in quale modalità, con quali tempistiche siano arrivate. Dall'altro c'è De Caro che ha detto che non sono stupito di questa inchiesta. Anche da questo punto di vista, memori di quanto è accaduto nelle scorse settimane, sembra che ci sia un distacco sempre più evidente tra Emiliano e De Caro. In qualche maniera i fatti di due settimane fa hanno scombustolato parecchio, poi c'è questa mitologia sui rapporti tra i due che si alternano sull'altalena con più o meno amici. In realtà poi ieri Antonio De Caro diceva, io da amministratore me le aspetto queste cose, perché diceva lui che io per primo sono andato a fare le denunce quando è capitato a Bari. Era un modo per dire alziamo l'asticella, io ve l'avevo detto di alzare l'asticella. Era un modo anche indiretto per rispondere a chi già nelle ore di ieri mattina stava cominciando a pensare che il banco potesse saltare e stava cominciando a pensare che il banco saltasse esattamente per i motivi, tant'è che Michele Laforgia dal palco di Piazza Libertà ha detto non possiamo far finta che non stia succedendo niente da quel punto di vista. Poi vale sempre tutto il contrario, perché lì c'è un indagato all'interno della Giunta che ha lasciato le deleghe, per cui questo quanto possa toccare direttamente l'esecutivo è un fatto che capiremo nelle prossime settimane con l'evoluzione dell'inchiesta. Io non mi aspetto neanche un rimpasto adesso, io mi aspetto un interimo lungo da parte di Michele Emiliano per capire che cosa accada. D'altro canto nei precedenti illustri penso a Gianni Giannini, penso a che è successo così, Emiliano si fa carico della delega e poi si aspetta. Però adesso anche il modo in cui si posizionerà sullo scacchiere delle primarie un po' ci racconterà. Perché questo ci porta alla storia che ci siamo sempre raccontati, quell'alone di diffidenza che pesa solitamente sui civici. Una frase che a me piace sempre di Marco Lacarra, i civici sono un poco che colesterolo, c'è quello buono e quello cattivo, ma chi la dà la patente di buono o cattivo ai civici? Al colesterolo lo fanno i medici, ma ai civici gliela dà questa patente. Tutte le migliori intenzioni della campagna elettorale poi hanno bisogno di numeri per strutturarsi. I civici fin qui hanno garantito anche quei numeri. Allora della serie o fare sempre o diciamo che mettiamo a regime e tutte queste aree vanno messe sotto cordone, però non si può neanche fare ex post. Chiarissimo, chiarissimo. È una bella riflessione che attende il centro-sinistra adesso e credo che sia la riflessione, quella su che cosa vogliamo essere da grandi. Che cosa vogliamo essere da grandi? Allora, Torbucci l'ha detto prima, forse quello che accadrà poi davvero sotto diversi piani lo scopriremo nel prossimo futuro o forse vi permetto di dire io non lo scopriremo davvero mai. Grazie mille Antonio Bucci per questa analisi. Buon lavoro Antonio. A te, buona giornata. E noi andiamo avanti con il telegiornale. Restiamo sulla questione politica. Tra poco andremo anche in fascia pubblicitaria. Prima però di chiudere andiamo a Roma perché nelle scorse ore la Camera, lo sappiamo, ha bocciato la mozione di sfiducia presentata dalle opposizioni contro il ministro Salvini e la ministra Santanchè. Ha detto Renzi, non basta un avviso di garanzia per mandare a casa un avversario. Il nostro corrispondente da Roma, Francesco Manigrasso. Detto fatto, la maggioranza si compatta attorno ai due ministri, Salvini e Santanchè, respingendo le mozioni di sfiducia. Per il primo in merito ai rapporti del leader del Carroccio con il partito di Putin, Russia Unita, per la seconda accusata della presunta truffa ai danni dell'Inps. La mozione di sfiducia presentata da parte delle opposizioni ci sembra un'autocolla alla fine perché non ha ottenuto nessun altro risultato se non quello di compattare la maggioranza. Prima di fare valutazione di opportunità, contare fino a dieci perché poi la giustizia spesso accerta che uno non è colpevole ma è troppo tardi per ripristinare una situazione pregressa. Noi siamo garantisti, dicono dalle file della maggioranza, le opposizioni ma soprattutto il PD si guarda in casa viste le vicende giudiziarie che riguardano la Puglia. Prima di pensare a vicende di un nostro ministro che non riguardano tra l'altro il ministero, a differenza di cose loro, perché in Puglia si parla di corruzione, di mafia, di appalti, quindi di cose che riguardano i ruoli per cui rivestono i politici. Il partito di Matteo Renzi vota a favore della sfiducia di Salvini perché è politica ma vota contro quella di Santanchè. Non basta un avviso di garanzia per mandare a casa un avversario, dice. Fosse stata politica avremmo votato sì. Perché tu ti puoi dimettere se ritieni di non essere all'altezza, puoi essere buttato fuori se vieni considerato non all'altezza, ma non è un avviso di garanzia una sentenza di colpevolezza passata in giudicato. Chi dice questo non ha mai letto la corretta costituzionale. Quindi su questo tema noi saremo sempre contro i ministri che non funzionano dal punto di vista politico, ma non saremo mai giustizialisti. Di tutt'altro avviso le altre opposizioni, così si disonorano le istituzioni. A noi non interessano le vicende giudiziarie, interessano i comportamenti che sono platealmente incompatibili con la presenza, anzi con la rappresentanza di un settore come il turismo. Pensano che governare sia comandare. Hanno chiesto le dimissioni ad altri per delle cose normalmente minori e qui davanti a dei fatti, a delle imputazioni, a delle accuse molto molto gravi, si fa finta di niente. La difendono pure, la difendono, lo pagheranno questa cosa qui. Ci fermiamo, tra poco ci sono tutte, ma proprio tutte le notizie di sport, poi ritorniamo nuovamente in diretta con altre news, altri servizi, altri approfondimenti. Torneremo a parlare dell'inchiesta di Bari, tanto sotto l'aspetto giudiziario quanto sul fronte politico. A dopo. Rimani connesso. Scarica gratuitamente dagli store o tramite QR code la nuova app di Antenna Sud. Più veloce e con più funzioni per essere aggiornato in tempo reale sulle news di Puglia e Basilicata. Seguire in streaming i nostri programmi o rivederli on-demand da qualsiasi dispositivo.